Un numero che cresce ora dopo ora. Sono almeno 1.500 le persone raggiunte in mare nelle ultime 24 ore. Tra i migranti soccorsi, uno di loro presenta gravi ferite da colpi di arma da fuoco. Per questo è stato necessario trasferirlo a bordo di una motovedetta veloce che ha fatto poi rotta verso Lampedusa. Intanto la nave Aquarius, con a bordo 783 persone, dovrebbe arrivare domani intorno alle 8 al porto commerciale di Augusta. Intanto una motovedetta porterà altri 59 migranti a Lampedusa. Come sempre, nell'isola arriveranno altri due mezzi di soccorso con a bordo complessivamente 312 migranti. Resta invece in attesa di una destinazione la nave Golfo Azzurro, con a bordo 248 persone. Intanto a terra il personale del gruppo Interforce della procura di Siracusa, dopo lo sbarco di 128 persone al porto di Augusta, ha identificato tre scafisti. I migranti soccorsi a bordo di una barca e di un gommone sarebbero partiti dalle coste libiche tra Zau e Sabrata la notte tra il primo e il 2 febbraio scorsi. Ognuno di loro avrebbe pagato l'equivalente di 1700 euro. Gli scafisti sono stati sottoposti a fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sono stati già trasferiti nel carcere di Siracusa.